Grazie dell'inviso e anche di parlare con voi di questa letteratura working class e comunque di una ricerca continua anche della forma, perché se tornano le rane è un romanzo, non è un ibrido, per la prima volta anche per me è stato un nuovo modo di raccontare la classe dalla quale provengo, ma mettendoci anche sia molta storia di vita ma anche di fiction e di immaginazione, infatti anche il titolo stesso è un inno a ricercare un immaginario, è un qualcosa che non c'è più che sta sotterraneo, queste rane diventano un simbolo molto più grande anche di storie a venire. L'intreccio sì, parte da un racconto, sono molti racconti e sono molte vite e tutte donne, donne di epoche diverse che fanno una sorta anche di staffetta working class, perché vivendo in epoche diverse affrontano la loro vita e come devono vivere per campare attraverso il confronto con il lavoro. Quindi Giorgia è la protagonista ed è la protagonista diciamo che è quello che perde il lavoro e in tutto l'arco del romanzo diciamo c'è un percorso che fa dietro a questo verbo perdere, perché se ci fate caso quando diciamo perdere il lavoro è qualcosa per cui ci sentiamo in colpa se diciamo perdere il lavoro, qualcosa a cui non ci abbiamo badato, che magari tenevamo in tasca o tenevamo a cuore ma non ci abbiamo fatto caso mentre se ne fuggiva via. Qualcosa che ci rimanda a un'autoresponsabilità della serie, ma allora se l'ho perso qualcosa è colpa pure mia, non ci ho fatto bene attenzione ai cambiamenti nell'azienda, all'idea di cosa poteva succedere nel futuro eccetera, mentre tutto il percorso che farà sarà passare da questa perdita e quindi anche con un atteggiamento di sconfitta, di depressione, di non vedere la realtà intorno a sé, di avere tutte le difficoltà anche materiali di continuare a vivere, invece passare al verbo di togliere. Quindi se io perdo il lavoro o invece se me l'hanno tolto e quindi Giorgia farà in questo romanzo tutto il percorso fra questi due verbi, ma quindi cambiando anche il suo atteggiamento e il suo senso di sconfitta. Le altre donne si scavano nel passato dove il lavoro magari invece è emancipazione da un mondo contadino, molto crudo, molto legato al patriarcato, al controllo ed è questa figura Anna, quasi una sorta di mitologia dell'immaginario della figlia di Giorgia, che è Camilla, una bambina, perché questa donna è morta diciamo a poco più di 40 anni e di cui se ne sa veramente poco. Quindi c'è una sorta di donna che appare, scompare lungo tutto il romanzo e lei è una di quelle donne che ha vissuto nel focolare, a dover stare dietro alla famiglia, a stare dietro a tutte le imposizioni degli uomini di famiglia eccetera. Fino ad arrivare poi anche altre donne in questa catena diciamo di famiglie, che è Lucia, che è la mamma di Giorgia, la nonna di Camilla, che ha vissuto l'emancipazione diciamo della donna dal lavoro di Campania verso la fabbrica, quindi la fabbrica di cocci, cocci che un tempo servivano a deumidificare gli ambienti, non so se qualcuno di voi si ricorda ma nelle pubblicità degli anni Ottanta imperversava lo spot sugli umidificatori, il coccio, che a un certo punto poi spariscono, per cui non capiamo bene come mai le industrie appaiono, sfruttano, abbiamo bisogno di quegli oggetti in tutti i modi e poi da un giorno a un altro non ne abbiamo più bisogno. Ecco, gli umidificatori in casa fatti di coccio erano un po' questi, tutte le case ci dovevano essere, poi dopo no, quindi Lucia è una partita nella fabbrica che ha sudato, che ha affaticato eccetera e che poi invece si ritrova a passare, diciamo, la propria vecchiaia a fare conserve, conserve di pumarola, di verdure eccetera, perché appunto l'origine della famiglia operaia di Giorgia e di Lucia è quella di una vita in fabbrica ma poi c'è anche da star dietro alle stagioni dell'orto che diventano in se stessa una sorta di fabbrica che continua. Ecco, il romanzo intreccia tutte queste donne e come cambia praticamente il loro sguardo nei confronti del lavoro e anche nei confronti dello sfruttamento, ma soprattutto di come queste donne piano piano fanno una sorta di passaggio e di micro miglioramenti, che sembrano non ci siano ma in realtà ci sono, sono forti, molto silenziosi perché fra le donne sono soltanto gesti, piccoli frammenti, anche non racconti, cioè qualcosa non si deve dire per proteggere una evoluzione, diciamo, di passaggi fra una generazione e l'altra. Ecco, ho cercato di mettere tutto insieme e le donne sono anche lo sguardo diverso, perché fra Giorgia, Lucia e Camilla vedono in maniera diversa anche un nuovo luogo di lavoro, che è non un luogo di lavoro ma che è un finto paese, che sono gli outlet. Non so se qua ce ne sono, ma diciamo a Barberino di Mugello c'è l'outlet proprio attaccato al casello, che è un finto paese dove l'unica cosa vera è il fiume che l'attraversa e dove ci sono un migliaio di persone che ci lavorano, quindi se ci pensate quanto è come una fabbrica, ma che hanno 32 tipi di contratti diversi, dove i parcheggi per i lavoratori non ci sono, perché tutto deve essere dato in concessione al cliente, dove le commesse sono diverse e anche in contrasto fra loro, perché chi lavora per Prada magari ha anche il Rimmel di serie alla formazione, magari la commessa di un altro marchio o no, e quindi non c'è neanche questa grande solidarietà di condizione di classe dentro l'outlet e dove ecco tutto questo scenario anziché essere raccontato da giornalisti, sindacalisti, politici, studiosi eccetera, viene sostituito da chi? Dai bambini. I bambini che vanno lì, giocano e in un certo senso giocando svelano questo mondo.